ciao e benvenuto in questo video sono paola della palaciotti immobiliare oggi ti parlo dell'incarico di vendita molto spesso i venditori pensano che dare un incarico in semiesclusiva anziché in esclusiva sia la strategia migliore per vendere la casa ti stai chiedendo ma cosa cambia semplice puoi far lavorare male tante agenzie o ne fai lavorare bene una sola devi sapere che una casa che si trova in internet e sui vari portali con diversa agenzia sembra proprio che tu la voglia vendere a tutti i costi se poi la stessa casa si trova come spesso succede a prezzi diversi è un vero disastro l'impressione è che tu autorizzi i potenziali clienti a fare offerte scandalose ma tu non vuoi svendere giusto un'agenzia come la mia lavora con il mandato in esclusiva aperta ti starai chiedendo che cos'è l'esclusiva aperta significa promuovere la casa la tua casa ai migliori agenti di zona che adottano lo stesso criterio di vendita della mia agenzia ma avrai solo me come referente la tua casa sarà trattata come un bene prezioso con i guanti con i guanti bianchi investirò molto non solo nella classica pubblicità dei portali dove purtroppo le case vengono mescolate tra migliaia di altre io presenterò la tua casa sui principali social network che oggi sono il futuro con video professionali che danno una visibilità mille volte superiore a quella della classica pubblicità poi farò delle azioni mirate con una ricerca proattiva per trovare il potenziale acquirente verranno distribuiti anche dei volantini dedicati sì per dar modo anche a chi non è capace ad usare il computer magari un nonno che vorrebbe i nipotini e il figlio vicino casa di vedere che c'è un immobile che potrebbe andar bene per loro contatterò personalmente i clienti passati e tutti i centri di influenza studi professionali con cui collaboro chiederò nominativi di potenziali acquirenti a svolgerò un'accurata selezione tra le richieste del mio database che sono tantissime prequalificando gli acquirenti prima di far vedere la tua casa senza eccezioni perché voglio sapere se hanno già una fattibilità del mutuo o se debbono vendere la loro casa per acquistarne un'altra insomma un bel lavoro di scrematura io non credo che tu vuoi i turisti immobiliari dentro casa tua infine dovrò valutare molto bene attentamente tutti gli aspetti legali e quelli urbanistici perché se ci troviamo in tempo di fronte a una difformità anomalia un vizio un vincolo facciamo in tempo a mettere tutto a posto io il mio studio di architetti con il quale collaboro e la questa consulenza sarà gratuita ora hai paura che al cliente possa sfuggire la tua casa visto che hai dato l'incarico ad una sola agenzia ti svelo un segreto un cliente prima di comprare valuta tutto ciò che c'è sul mercato nella zona contatta tutte le agenzie per questo stai tranquillo dormi sonni tranquilli non perderai nessunissima occasione sai invece cosa succederà se la tua casa pubblicizzata da tre o quattro agenzie dovesse interessare al signor mario il signor mario entrerà in tutte le agenzie per spuntare il prezzo di un basso in assoluto così la svenderai fai diventare la paola ciotti immobiliare la tua agenzia di fiducia chiamami anche solo per una consulenza ti svelerò come ho fatto a vendere in una giornata l'ultimo immobile a prezzo pieno qui all'euro mi raccomando se hai trovato interessante quello che ti ho detto metti il tuo prezioso like e condividi ora ti lascio spero di vederti presto ciao e alla prossima